Ciao a tutti gli appassionati di guida e benvenuti sul canale YouTube di DS Tyres. Oggi abbiamo qualcosa di veramente speciale per voi, qualcosa che porterà la vostra esperienza di guida invernale a un livello completamente nuovo. Avete mai pensato a cosa significhi avere una vera e propria fiducia sulla strada, anche nelle condizioni invernali più estreme? Beh, preparatevi a scoprire la risposta con il pneumatico invernale Michelin Alpine 6. Con tecnologia avanzata, design rivoluzionario e performance che parlano da sole, l'Alpine 6 è più di un semplice pneumatico, è un alleato che vi accompagna attraverso neve, ghiaccio e bagnato, garantendo sempre la massima sicurezza e trazione. Ma prima di immergerci nei dettagli tecnici e svelarvi tutti i segreti di questa gomma, assicuratevi di cliccare su quel pulsante iscriviti proprio qui sotto. Iscrivendovi al nostro canale, non solo rimarrete aggiornati su tutte le nostre novità, ma diventerete parte integrante della nostra community di amanti delle quattro ruote. Bene, amici di DS Tires, è ora di addentrarci nel cuore tecnologico del Michelin Alpine 6. Se siete appassionati di ingegneria automobilistica e desiderate capire cosa rende unico questo pneumatico, siete nel posto giusto. Partiamo dalla mescola del battistrada. L'Alpine 6 utilizza una mescola multistrato innovativa, progettata per offrire aderenza eccellente con temperature basse. Questa mescola è formulata con una combinazione specifica di polimeri ad alte prestazioni, silice e additivi speciali, consentendo un equilibrio ottimale tra trazione, durata e resistenza all'usura. Ma la magia non finisce qui. La tecnologia Michelin Everwinter Grip introduce un disegno del battistrada progressivo, con canali emergenti che si allargano con l'usura dei pneumatici. Questo significa che, man mano che il pneumatico si consuma, la trazione e la frenata su neve restano costanti. E ancora, l'innovativo indicatore d'usura del battistrada Michelin fornisce una visualizzazione chiara del consumo del pneumatico, eliminando ogni dubbio sulla sostituzione, e assicurando sempre la massima sicurezza su strada. Queste tecnologie, combinate in modo sinergico, creano un pneumatico che non è solo un componente passivo della vostra auto, ma un vero e proprio partner attivo, che risponde e si adatta alle condizioni della strada, offrendo una guida invernale come mai prima d'ora. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio tecnologico attraverso il Michelin Alpine 6. Abbiamo esplorato le mescole avanzate, la tecnologia Everwinter Grip, e abbiamo scoperto come questo pneumatico rappresenti un salto generazionale nella guida invernale. Vi ringraziamo di cuore per averci accompagnati in questa affascinante esplorazione. Se questo video vi è piaciuto e volete vedere di più, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. La vostra partecipazione ci motiva a portarvi sempre più contenuti tecnici e informativi di alta qualità. Per chi di voi è interessato ad acquistare il Michelin Alpine 6, visitate il nostro sito di S-Tyress.it. È il luogo facile e sicuro per acquistare questo pneumatico rivoluzionario, e potrete contare sul supporto dei nostri esperti tecnici e del servizio clienti. E infine, se avete qualche suggerimento su un pneumatico che vorreste vederci recensire, potete farcelo sapere nei commenti qui sotto. Siamo sempre alla ricerca di nuove idee, e le vostre opinioni contano veramente tanto per noi. Grazie ancora per aver interagito con noi oggi. Continuate a guidare in sicurezza, e ci vediamo nel prossimo video.